Musica Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione sportiva di Media24. Medaglia di bronzo alle Paralimpiade di Parigi nel tiro a segno P4 per il San Vitesse Davide Franceschetti. Bel colpo, medaglia di bronzo alle Paralimpiade di Parigi nel tiro a segno P4 per Davide Franceschetti. Il San Vitesse ha ottenuto il terzo posto nel tiro con la pistola, bersaglio a 50 metri, con 199,7 punti. L'oro è andato al cinese Yang con 220,1 e l'argento all'Uzbeko Ibrahimov, 215,3. Super Davide all'esordio paralimpico ha centrato il bronzo, risultando peraltro l'unico degli otto finalisti a registrare un colpo perfetto, quello da 10,9 e chiudendo con un punteggio totale di 199,7. Il San Vitesse agli europei di Granada di giugno si era messo al collo un argento e un bronzo. La multidisciplinarità è il suo forte, considerando che il trentenne si è avvicinato al tiro a segno dopo aver praticato per 24 anni nuoto e tiro con l'arco, riuscendo a emergere in fretta e approdando in nazionale. Il dono della mira è un'eredità di famiglia. Il padre per tanti anni si è dedicato all'arco, anche se l'incontro tra Davide e la pistola è stato frutto del caso, grazie a una festa paesana dove era presente lo stand del tiro. Approvato per la prima volta ed è stato subito amore, punto di forza della nazionale paralimpica da due anni e mezzo, Franceschetti ha già mostrato doti innate nella ricerca della concentrazione nella gestione mentale delle gare più importanti e complicate. In precedenza, nella prova maschile di pistola ad aria compressa dai 10 metri, Davide Franceschetti aveva ottenuto la ventesima posizione, mancando le fasi successive. In quel frangente, l'emozione del debutto ha influito negativamente sulla prestazione dell'atleta sanvitese, che aveva ottenuto uno score di 553 su 600, un risultato frutto di un inizio complicato, evidente sin dai primi colpi. In Serie C, clamoroso a Trieste, l'alabarda dopo la sconfitta con la Clodense, esonerà il direttore sportivo Donati. Clamoroso alla Triestina, esonerato il DS Donati. Fulmine a ciel sereno dalle parti di via Valmaura mercoledì sera, con una notizia che fa scalpore per quanto era onestamente in attesa. Maurice Donati, infatti, non è più il direttore sportivo della Triestina e a comunicarlo è stata la stessa società alabardata con una nota ai media. Non si conoscono le motivazioni della scelta, ma il fatto che questa arrivi a pochi giorni dal termine della sessione di mercato fa capire che il club non si può considerare soddisfatto dal lavoro svolto dall'ormai ex DS. Una campagna trasferimenti che è stata tutt'altro che semplice per la società alabardata, con vari addi importanti da registrare. A cominciare da quello di bomber Facundo Lescano, che aveva espresso la volontà di andare via da Trieste, fino ad arrivare alla rescissione dell'ex capitano Alessandro Malomo. La Rosa ha qualche buco, soprattutto nel reparto arretrato e sulla tre quarti, dove non si è riusciti a dare la profondità auspicabile per una squadra di vertice e che vuole lottare per la promozione. Ci sono però stati anche dei buoni acquisti, come quelli delle punte Olivieri e Crollis, oltre che dei mediani Voca e Attis del centrale difensivo Frare. Ma soprattutto si sono respinti gli assalti dalla Serie B per Omar Correa, che vivrà così la sua seconda stagione in alabardato, almeno fino a gennaio. Non abbastanza però evidentemente per il club, se appunto preso la decisione di sollevare dall'incarico Donati. L'esonero ha effetto immediato e la società si riserva la possibilità di cercare a breve un sostituto che possa occupare la posizione dirigenziale ormai vacante. Domenica al via la Serie D, nel Girone C che interessa noi da vicino, Charlize Muzzane, Chionze e Brian Liugnano, le friulane impegnate, e la concittadina Portogruaro. E come ogni anno, Transfer Market traccia i valori delle rose ai nastri di partenza. Serie D, quanto valgono le rose nel Girone C? Il mercato di Serie D è ancora aperto e qualche colpo che potrà sparigliare le carte in tavola può ancora avvenire, ma le rose delle squadre del Girone C sono ormai fatte ai valori noti. E allora, come al solito, Transfer Market, portale che si occupa di dati soprattutto economici nel calcio, sia a livello professionistico che dilettantistico, ha stilato la classifica di quanto valgono in euro i roster dei vari club del Girone C. Si è chiaro, si tratta della somma dei valori dei cartellini di tutti i calciatori presenti in rosa, e non come erroneamente crede qualcuno della cifra che i presidenti hanno speso per costruire la squadra. Anche perché in Serie D non c'è player trading, o questo si limita più che altro ai prestiti da dover pagare alle società prevalentemente professionistiche per i giovani e gli accordi economici con i calciatori non sono noti. Si tratta della semplice valutazione della prima squadra e in questo non stupisce che agli ultimi tre posti ci siano le tre neopromosse Lavis, 100.000 euro di valore, Calvino A alle 325.000 e Brian Lignano con 425.000. Non perché le rose valgano effettivamente così, ma perché sono piene di calciatori che, provenendo dall'eccellenza, non hanno una valutazione. Transfer Market incomincia a dare un valore economico ai cartellini dalla serie D in su e infatti il Chions, che ha acquistato vari profili dalle élite regionali del sud Italia, sta un poco più sopra, ma sempre nei bassi fondi della classifica, con 625.000 euro di valore al quattro ultimo posto. Dopodiché si sfonda il milione di valutazione con Montecchio Maggiore a 1.060.000, Bassano a 1.100.000 ed Este a 1.150.000. Poco più su a metà la classifica ci sono il Porto Gruaro con 1.160.000 euro di valore e il Charlie Smuzzane, che con il suo mercato più oculato rispetto alle scorse stagioni ha una rosa valutata a 1.180.000 euro. Più in alto le tre Bergamasche, Caravaggio, Brosaporto e Villavalle, con il Campo d'Arsego, fino ad arrivare alla top 3 che sfonda il muro del 1.600.000 euro, con la Dolomiti Bellunesi che raggiunge questa cifra, il Real Calepina che va alle 100.000 euro in più e il Treviso che fa segnare il record a 1.640.000 euro. È di Matteo Malucelli la prima vittoria di tappa al sessantesimo giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, categoria Under 23 ed Elite. Servizio. Ha la prestigiosa firma di Matteo Malucelli la prima vittoria di tappa del sessantesimo giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite. Ieri sul traguardo di San Giorgio di Nogaro, il velocista ha piazzato la zampata, battendo allo sprint Simone Buda e Thomas Capra. Matteo Malucelli è anche il primo leader della classifica generale e ha vestito così la maglia gialla Pratik. Le prime fasi della palazzola dello Stella San Giorgio di Nogaro, di 177 chilometri, ha fatto registrare numerosi tentativi di allungo, tutti annullati dal gruppo, anche perché la prima ora di gara è volata via alla media di 51 chilometri orari. Al chilometro 41, in centro a Pocenia, Lorenzo Peschi ha vinto il primo traguardo volante. Poco più avanti, al chilometro 47, sono evasi dal gruppo cinque corridori, il sudafricano Travis, il norvegese Oidal, De Carlo, Mottes e il friulano Bortoluzzi. I fuggitivi hanno raggiunto un massimo vantaggio di 5 minuti e 15 secondi. Nel circuito finale, attorno a San Giorgio, dopo il secondo traguardo volante, vinto da Stendman a porpetto, lo sloveno Gregoric e lo svizzero Janssen sono usciti dal gruppo dall'inseguimento dei 5 in fuga. Il gruppone dei migliori non ha lasciato spazio, agganciando tutti gli uomini in scoperta, a 22 chilometri dall'arrivo. Nello sprint conclusivo, il più veloce di tutti è stato Matteo Maluccelli, che si è preso tappa e maglia. Oggi, seconda delle quattro tappe, da un pezzo a Sauris di sopra, con la bar calda, il passo pura e oltre 3.000 metri di dislivello. Restiamo in ambito ciclismo. Non dimenticate che stasera c'è l'approfondimento con Francesco Tonizzo sul giro, perché il settembre ciclistico si tinge da azzurro, anzi, permettetemi, lasciatemi passare il termine, a tinte friulane. Jonathan Milan, infatti, è l'alfiere ai prossimi europei e ai prossimi mondiali. Il settembre ciclistico si tinge da azzurro, a tinte friulane. La nazionale di ciclismo su strada si appresta a disputare prima gli europei nelle Fiandre dall'11 al 15, poi, a fine mese, il mondiale di Zurigo. Per la rassegna continentale, nell'Italia Bici, del CT Daniele Bennati, il ruolo di punta spetta Jonathan Milan. Sarà lui l'uomo designato per andare a calcia del titolo europeo. Oltre a Jonathan, il CT ha chiamato pure Consonni, che con Milan ha vinto anche le medaglie olimpiche, e ridate nel quartetto su pista. Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jacopo Mosca, che corre con Milan alla Lidl, Andrea Pasqualone e Matteo Trentin. Quest'ultimo è stato campione europeo a Glasgow nel 2018. In Belgio, l'obiettivo dell'Italia sarà controllare la corsa e provare a mettere in moto il treno per Jonathan Milan, che oggi è uno dei velocisti migliori al mondo. La curiosità è quella di capire se le squadre favorite, Olanda e Belgio su tutte, sapranno contrastare efficacemente gli azzurri. A questo proposito, da valutare le condizioni del belga, Van Aert ieri caduto alla Vuelta e costretto a ritiro. Nelle Fiandre si correrà anche la corsa delle altre categorie UCI. Nell'Italia, il lit femminile, si è meritata la convocazione Elena Ceccherini. La friulana correrà con Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarisci, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. La formazione Under 23 femminile è invece composta da Francesca Barale, Giada Borghesi, Carlotta Cipressi, Sara Fiorin, Eleonora Gasparini e Cristina Tonetti. Il pinzanese Andrea Montagnier, prodotto del divaio della Libertas Ceresetto e oggi alla Borgo Molino, è stato inserito nel gruppo degli Juniors, con Andrea Donati, Riccardo Fabbro, Santiago Ferraro, Lorenzo Marc Fin, Alessio Megagnotti e Ludovico Maria Mellano. L'Under 23 maschile è composta da Nicolo Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgolo, Renzo Conforti, Nicola Smillesi, Manuele Oioli, Andrea Raccagni, Alessandro Romele e Juan Gavid, Sierra. Elena Cecchini e Andrea Montagnier saranno protagonisti anche nelle prove di staffetta mista, dove hanno già raccolto ottimi risultati negli anni scorsi, andando entrambi a medaglia nel 2023. Affini, Cattaneo, Guazzini, Pirrone, Millesi, Noviere e Cipressi disputeranno le prove a cronometro nelle rispettive categorie. Si parte mercoledì 11 con tutte le gare contro il tempo. Giovedì le staffette, venedì le gare degli Under 23, sabato gli uomini junior, donne elite, gran chiusura domenica con le donne junior e la prova regina degli uomini elite. L'Olimpia Milano dello stilista Giorgio Armani si è giudicata il trofeo di basket giovanile Dudi Kreiner, disputato lo scorso weekend a Gorizia. È una big del basket italiano a mettere la sua firma sull'edizione 2024, la numero 30, del torneo di basket giovanile internazionale Dudi Kreiner di Gorizia. L'Olimpia Milano è infatti trionfato al Palabrumati del capoluogo Isontino al termine della manifestazione organizzata ancora una volta in maniera impeccabile dall'Unione Sportiva Goriziana della Famiglia Rosso, dedicata da qualche anno alla categoria Under 17 per mettere in vetrina i grandi talenti della Palacanesso di domani a livello europeo. Ed in effetti in Riva Lisonzo sono arrivati alcuni dei vivai più importanti del continente, oltre a quello dell'Olimpia, che poi si è portato a casa per la prima volta al trofeo, c'erano anche le squadre giovanili dell'Orange 1 Bassano, della Stella Azzurra Roma, della Pallacanestro Trieste, della Dynamic Belgrado e del Mladi di Nova Gorizia. Siamo davvero soddisfatti, anno dopo anno il pubblico sta crescendo, così come l'interesse per il torneo da parte di tante società in Italia ed in Europa, dice Giacomo Rosso, che organizza il torneo assieme al padre Roberto, lo storico patron, e il fratello Giovanni. Gorizia offre così una vetrina sul meglio del basket giovanile internazionale e speriamo che per le prossime edizioni ci sia possibile avere a disposizione più impianti e maggiori risorse. Venendo ai risultati, come detto a brillare è stata soprattutto l'Olimpia, che ha coronato il suo percorso vincendo nettamente la finalissima contro la Stella Azzurra Roma per 84-51, potendo contare su buona parte dei giocatori che lo scorso anno hanno trionfato nel campionato italiano Under-15. Terzo posto per la Dynamic Belgrado, che ha avuto la meglio su Bassano, per 88-64 nella finalina, mentre la Palacanestro Trieste ha chiuso quinta e Nova Gorizza al sesto posto. Per quanto cociarne i premi individuali, l'MVP del torneo è stato Federico Pillepic, guardia di Milano, e con lui nel quintetto ideale allenato dal coach dell'Olimpia Giacomo Cardelli sono stati inseriti Emmanuel Tobou della Palacanestro Trieste, Baptiste Chavot di Milano, Miklaus Veselov della Stella Azzurra Roma e Andrei Bosic della Dynamo Belgrado. Ancora, la gara del tiro da tre punti è stata vinta dal serbo di Belgrado Danilo Bojovic, mentre quella delle schiacciate ha premiato l'atletismo e la creatività di Angelo Modanese dell'Orangiuno Bassano. Sabato 7 settembre alle 15.30 presso l'imbarcadero del Noncello è previsto l'arrivo delle imbarcazioni che prenderanno parte al 53esimo rally motonautico Venezia-Pordenone. Anche quest'anno, sabato 7 settembre alle 15.30 presso l'imbarcadero del Noncello, è previsto l'arrivo delle imbarcazioni partecipanti al 53esimo rally motonautico Venezia-Pordenone. Una tradizione che si ripete da oltre mezzo secolo, che fa rivivere la vecchia tradizione pordenonese della navigazione fluviale da Pordenone a Venezia. Il gruppo sportivo nautico, organizzatrice del rally motonautico, prende il nome dall'antica Portus Naonis ed è stato fondato nel 1967 da pordenonesi che vedevano nello sviluppo nautico del Noncello una tradizione consolidata e una prospettiva per il futuro dal punto di vista turistico. Il rally motonautico Venezia-Pordenone è una manifestazione che si svolge sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica. Il rally è una classica gara di regolarità, parte da Venezia, punta Sabbioni, Liogrando e attraverso l'antica idrovia e i fiumi Livenza, Meduna e Noncello giunge sino a Pordenone dopo circa 140 chilometri lungo un percorso fra i più belli dell'intero Alto Adriatico. I concorrenti scelgono la partenza alla velocità cu cui intendono gareggiare fra quelle stabilite dall'organizzazione. Vince chi rispetta la media prescelta, la velocità e la media vengono controllate ufficialmente dai cronoministri della Federazione Italiana Cronometristi posizionati lungo il percorso. Alcuni controlli sono palesi e altri segreti. Le imbarcazioni partecipanti, con una dimensione massima di 7 metri, sono provenienti, oltre che da Pordenone, dall'intero Triveneto. Sabato sera, presso il ristorante Mediterraneo, galà conclusivo con premiazione dei vincitori. Domenica mattina le imbarcazioni ripartiranno all'approdo del noncello per raggiungere le loro destinazioni di partenza. La manifestazione, oltre al valore sportivo, ha grande valore culturale. Infatti vuole richiamare e mantenere vive i legami storici, culturali ed economici che Pordenone, porto sul noncello, ha sempre avuto con Venezia e far rivivere l'antica idrovia, auspicando uno sviluppo turistico per il futuro. Era questo l'ultimo servizio dell'edizione odierna, l'appuntamento per il TGM Sport Friuli Venezia Giulia. E a domani sera, non andate via perché la linea adesso passa a Spadino e alle sue pillole del TG Chiosco, a seguire Francesco Tonizzo con l'approfondimento sulla seconda gara del Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia e a seguire ancora il campionato carnico. Grazie per essere stati con noi, buonasera.